A partire dalla mezzanotte di questa sera avrà inizio il trattamento di disinfestazione adulticida sul territorio comunale di Agropoli. L'intervento sarà effettuato da personale specializzato con l'ausilio di automezzi e attrezzature idonee. I prodotti utilizzati, autorizzati dal Ministero della Salute, sono a base di pirietoidi di sintesi in formulazioni a basso impatto ambientali. La popolazione è invitata a evitare l'esposizione all'aperto di alimenti di indumenti, mettere a riparo animali domestici da compagnia, chiudere le finestre e i balconi durante l'esecuzione dell'intervento, lavare accuratamente frutta e verdura, eventualmente coltivata in orti e giardini nel centro urbano.